La Corte d'Appello di Perugia ha accolto la richiesta di estradizione di Davide Pecorelli in Albania. L'imprenditore, alto tiberino, titolare di un'attività economica anche a Sansepolcro ed ex arbitro della sezione AIA di Arezzo, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Puche, è stato recentemente condannato a quattro anni di reclusione con rito abbreviato per i reati di truffa gravata, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, distruzione delle proprietà tramite incendio e attraversamento illecito della frontiera. Pecorelli all'inizio 2021 si finse morto carbonizzato in Albania per ricomparire poi, pochi mesi dopo, nelle acque del Tirreno alla ricerca di un tesoro sull'isola di Monte Cristo. Per i reati di cui era accusato in Albania era stato sottoposto ad arresto provvisorio in Italia. Già nel 2022 l'Albania aveva chiesto la sua estradizione. Con la conclusione del processo a suo carico lo scorso aprile, la giustizia italiana adesso si è pronunciata. La difesa di Pecorelli ha chiesto un approfondimento istruttorio per verificare se le condizioni detentive in Albania siano rispettose del divieto di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, cosa che impedirebbe l'esecuzione dell'estradizione. Gli avvocati nel loro intervento hanno tirato in ballo anche il caso di Larie Salis, detenuta in Ungheria. I legali infine hanno già annunciato che presenteranno ricorso in Cassazione.